ma adesso i famosi sette pacchi in attesa le matavus lo sapete che ti sa più allora istagaming andiamo a comprare sette gli sto a faricchi sto a diventare bobbè non pure che cazzo faccio intanto andiamo a aprirsi quattro pacchi da 150k voglio proprio vedere che pacchettini ci danno ragazzi e questo è ciò che mi insegnò zano quando sta tiltato scioppa che ti fa quando sta tiltato scioppa vai oh walk out yeah bale vabbè pure saul non si è butta quando ho letto galles ho fatto aspetta è per forza lui walk out galles cioè non c'è sta nessun altro 4,90 bail vai ma penso che dopo che ci ha dato bail non ci darà nient'altro di interessante vabbè niff almeno quello no raga sto 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 proprio arrivato ma sta un bel pacchetto pure questa finiglia 4 pass 10k eh lo so smilsy lo so che cazzo ho fatto no sto proprio cotto sto cotto non so perché cazzo me da william cos'è non ci faccio terzo un altro walk out ci potrebbe pure da sergi roberto boh niente da che comunque è metodo zano e servito nemmeno sai che walk out l'hanno visto prima riga non lo vediamo più spagna cdc vabbè 85 mamma mia fishek ma che è 80 fishek vabbè 10k tamo fatti dai inveciguanto 10k almeno 5uc3 cdc che cazzo ai pesi no altro腕 trovo due if va bene va bene Oh, David Luiz, sai che appa? Vabbè, 20k di pacco ci posso stare, dai Ci posso volare tutti, arbar, vai Ciao campioni Apriamo seppuri promo a quest'altri M'ha nato una piccola pub, regà Insomma Golosi questi pacchi, molto simpatici Ma icon 80k Mmm, golosa Vabbè, dopo di Maria Stindol, un'altra volta Questi pacchi, ho aperto i due da telefono ieri Stindol e Raffel Tutti a tteta Walkout dove siamo giocati Ma pure che se apri, cioè Porca, vada, ero 81, die Ci sono rientrati alle live Nooo Ho realizzato fatte in Modric Invece no, è Rakitic Vaffanculo 40k, quanto sta? 29, dai, che schifo Vabbè, però, 29.000 Non ne ho in butto Vabbè, dai, 30k ce le posso stare Guarda, le bette va a aprire sull'ultimo pacco Ma non penso ne sia bisogno Lo apro tanto per, mano Non penso ne trova Vabbè, questo non è mai n'aria Vabbè, Pjanic, dai Questo effettivamente potrei caricarlo sul canale Sarebbe simpatico Sarebbe un buon pacco opening Vabbè, c'ho Rakitic C'ho Pjanic Dice che sta a 21.000 Mettiamo a 20 Poi giocare a lotteria Abbiamo mai avuto così tanto culo Marzoni mi vorrebbe insultare un po' su TS Sarei pronto a ricevergli un po' di insulti, onestamente Che senso, ragazzi Sto finito di editare, tumore di merda Sto finendo di fare di fare di fare di fare di muo a Rio Sì, sì, tranquillo Sì, 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 Grazie a tutti.